Sempre con lo stesso spirito, attitudine decisa, con spensieratezza, quanto basta e con felicità. Sicuramente è il disco più a fuoco e più simile vicino a quello che sono oggi, sia dalla sonorità che dai testi. Sono cresciuta e questa è la cosa poi bella, quando cresci poi hai la possibilità di incasellare tutto con più ordine, quindi è semplicemente più aderente a quello che sono oggi. Per assurdo sembrano due lavori molto distanti, ma io faccio l'interprete, quindi in realtà puoi anche cantare cose che non riguardano la tua vita. Però sono due cose talmente diverse, due storie così lontane che è una risposta che non so dare ora, forse dopo Sanremo potrò rispondere a questa domanda. È un passo importantissimo nella mia carriera, anche perché è il primo palazzetto. Me lo immagino potente, felice, quindi comunque immagino una grande festa e spero di regalare uno show all'altezza. e spero di regalare uno show all'altezza.